In questo video ti parlo dell'operazione più potente, e per potente intendo che può farti fare più soldi nel mercato americano. E cosa c'è dietro questa operazione? Una ed una sola cosa, è sempre la stessa una storia, una storia potente che crea appunto un movimento che noi possiamo andare a sezionare in vari step, in varie fasi e sfruttare potenzialmente in ognuna di queste fasi. Io mi sono specializzato nella fase centrale barra finale di tutto questo ciclo di movimento, però qui ti racconto un pochino come nasce e perché nasce. Nello specifico la storia che ti racconterò riguarderà le elezioni americane, ossia lo scontro epico tra Trump ed ora Kamala Harris che sta per arrivare a conclusione. Prima di cominciare però, la cosa che io ti invito a fare seriamente, perché queste cose le ho già approfondite nel corso di queste settimane dando appunto prova di quello che stavo facendo, raccontando cosa avrei fatto, situazioni in questione che tra poco vedremo, è quello di andare nel sito, in realtà trovi il link in descrizione, quindi appena finito questo video vai nel link in descrizione, cliccaci e iscriviti però alla newsletter The Edge nel sito www.smallcappusa.com perché quella newsletter appunto ricevi una montagna di contenuti inediti, ricerche e soprattutto informazioni in anticipo rispetto a tutti gli altri. Ok? Quindi ora, torniamo a bomba sul nostro argomento di oggi e parliamo di queste benedette, benedette elezioni americane che stanno portando, che porteranno in realtà tantissima volatilità e movimenti dopo elezioni stesse ma che in realtà ovviamente hanno portato occasioni anche prima e l'occasione nitida, chiara, precisa è stata su un'azione che non fa altro, non fa nient'altro che seguire Trump un'azione che si chiama, te la faccio vedere subito, DJT si chiama Trump, l'azienda dietro DJT si chiama Trump Media & Technology Group è un'azione, come va a vedere, che in realtà è stata quotata con il ticker DEWAC attraverso una SPAC ok? e sostanzialmente è un'azione che ha fatto vedere sin da subito di essere in grado di mettere a segno dei movimenti pazzeschi guardate qui, dal minimo, da dopo l'IPO a questo massimo, nell'arco di qualche settimana ha subito fatto segnare un movimento del 1674% ok? quindi un'azione che ha nel suo DNA la capacità di spingere ovviamente come spinge questa azione? un'azione che si chiama Trump, un'azienda, un'azione di un'azienda che si chiama Trump Media & Technology non può che spingere, guidata dall'esternazione, da ciò che accade a Donald Trump signori, si chiama proprio DJT, cioè Donald J. Trump il ticker di quest'azione attenzione, quindi l'azienda eccola qui la TMTG, Trump Media & Technology Group è un'azione, un'azienda che ha nel suo manifesto proprio una sorta di programma elettorale della destra americana ok? quindi lo vediamo palesemente, no? una forza unita per la libertà di espressione quando è nato questo progetto? questo progetto è nato esattamente quando Trump venne bannato in modo simultaneo da tutti i principali social media americani che hanno segnato in America ovviamente quindi parliamo di l'ex Twitter prima di tutto che li usava tantissimo per far uscire, per promulgare per comunicare i suoi messaggi da Instagram, da tutti i social è stato bannato, scusi, tagliato da tutti i social media e rimase sostanzialmente senza voce allora cosa fece? decise di creare questo social media, il Truth ok? ha chiamato un social media verità e questo social media doveva essere una bandiera ok? per la libertà di espressione ora questo social media è attivo alla fine è stato attivato l'azienda dietro questo social media Truth di WAC è stata subito quotata con una SPAC ok? che come vedi poi ha avuto anche un bel andamento quindi insomma ci ha fatto anche un discreto profitto però a parte questo il social media è rimasto comunque un social media di nicchia con una discreta base di utenti ma che non è assolutamente esploso ok? ora perché è interessante? cosa c'entra tutto questo con le elezioni? c'entra come ovvio? perché nelle elezioni c'è Donald J. Trump quindi DJT è un'azione che si muove seguendo Donald Trump ok? andiamo a vedere per esempio ti voglio far vedere cosa è successo per darti proprio un quadro preciso quando venne quando sostanzialmente si andò delineando la sicurezza del fatto che Donald Trump sarebbe stato il candidato repubblicano alle elezioni del 2024 guarda che rally che ha fatto DJT ex-DWAC ha fatto un rally del 250% passando dai 16 dollari e 70 circa a quasi 59 quindi vedi com'è reattiva ma ancora di più ancora di più lo voglio farti vedere è questo guarda se io vado a a prendere il e te lo faccio vedere subito dammi un secondo l'attentato a Donald Trump così ti faccio capire subito quello di cui ti sto dicendo guarda come l'attentato a Donald Trump c'è stato sostanzialmente il 13 luglio ok? che giorno era il 13 luglio? te lo dico subito il 13 luglio era sabato quindi mercati chiusi 13 luglio sabato 14 luglio domenica 15 luglio mercati aperti il giorno il primo giorno di mercati aperti dopo l'attentato a Donald Trump che ti ricorderai sicuramente ti faccio dire un'immagine per darti un po' di contesto insomma ti ricorderai sicuramente questa immagine con lui che viene colpito e poi fight fight insomma roba epocale va bene ok? foto del secolo forse a livello politico però a parte questo che succede il 15 quindi quel lunedì succede questo che tu mi dirai beh non è granché in realtà lo è come perché guarda come questo sia un gap del 50% praticamente su un'azione da 30 dollari è tanta tanta roba ok? è tanta tanta roba questo è un impatto importante sulla base di cosa abbiamo questo questo gap sulla base semplicemente dell'attentato che c'è stato a Donald Trump che lo ha visto uscire sostanzialmente illeso ok? è molto rafforzato dal punto di vista lezioni però guarda cosa è successo dietro poi dopo poi in realtà e dopo abbiamo avuto comunque un sell off ok? siamo sempre lì sell the news uno dei dei pattern chiamalo così più importanti di tutti ci arriveremo tra poco ora cosa succede nel momento in cui ci avviciniamo ad oggi ossia alle nostre lezioni ma prima facciamo un passo quindi andiamo a vedere che tipo di azione è che tipo di azione è di IJT sostanzialmente un'azione con una market cap di 6 miliardi che ovviamente è aumentata tanto nell'arco delle ultime settimane barra mesi perché il prezzo è venuto su in modo importante un flottante di 84 milioni circa un outstanding di 200 milioni quindi sono tante azioni in circolazione e un short interest quindi una percentuale di azioni in vendita abbastanza alta del 15% perché ti dico questo perché sostanzialmente la questa azione così strutturata con questi presupposti è una di quelle azioni che poi aveva i quattro pilastri necessari per avere un'operazione grande un'operazione dove mettere size un'operazione dove fare parecchi soldi ok e questa questi quattro pilastri sono questi la liquidità perché è un'azione dove appunto si può andare a entrare tantissimi soldi tantissima liquidità perché è un'azione che sta correndo per una storia una storia importantissima ok per un per dei rumors quindi tutta la fase by the rumors del denuncio ci stanno avvicinando ma si sta muovendo per una serie di rumors molto 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 importanti ossia Donald Trump è in vantaggio sempre più importante sembrerebbe sembrerebbe rispetto a Kamala Harris per diventare il nuovo presidente americano DJT che è un'azione che praticamente è l'azione di Trump ok è diventata questa l'azione che esprime la possibilità che Trump diventi presidente sta attraendo sempre più liquidità quindi primo pilastro presente dopodiché il range ok ha un range molto importante questa azione abbiamo visto che si muove per un singolo evento che può essere l'attentato di Trump ma abbiamo visto del 50% in gap in unica giornata oppure spinge del 250% quando Trump vince tra virgolette le primarie repubblicane quindi vedi come è un'azione che ha range mette in campo un range importante quando c'è qualcosa c'è Dumb Money perché è un'azione che sta comunque è comprata è nelle mire di tantissime retail e sappiamo che i retail comprano quando siamo vicini al top e se comprano quando siamo vicini al top che succede? che quando il prezzo inizierà a venire giù loro saranno tra quelli che dovranno vendere subito perché saranno in panico e quindi alimenteranno la discesa piccola parentesi su un concetto che io non mi stancherò mai di ripetere il prezzo delle azioni degli strumenti in realtà non va su in modo importante solo per i compratori ma va su in modo importante soprattutto per gli short per la presenza di short che quando si rendono conto di essere in difficoltà devono chiudere gli short devono fare buy to cover e mettere domanda a un certo punto in quel mercato ci sarà solo domanda praticamente il prezzo andrà parabolico a rialzo rigiriamo la frittata il prezzo degli strumenti non va solo giù perché per opera dei short ma soprattutto per opera dei long perché quando si renderanno conto di essere in difficoltà di avere sbagliato operazione dovranno chiudere i long quindi dovranno fare sell e mettere offerta ecco che arrivano i crolli ok compratori naturali venditori naturali questo concetto stampato in testa perché è l'unico vero concetto che ti fa comprendere come si muovono i mercati ok ora torniamo a noi un altro pilastro importantissimo è la storia dopo il dumb money dopo la liquidità dopo il range è la storia e qui la storia c'è è palese è una storia bella e importante ok la storia che segue le elezioni americane e la possibilità di Trump diventare il nuovo presidente americano in un'azione che ha come tra l'altro ownership più importante più importante quella degli individual insider quindi è un'azione con un insider ownership percentuale importante ma guardate chi è il top owner tra questi insider è Donald Trump quindi questa azione è espressione della possibilità di Trump di diventare il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America punto sta andando su seguendo quel tipo di di rumors ok e ora torniamo sull'azione e qui c'è il mio primo errore questa qui era un'idea chi avrebbe dovuto cavalcare vedete qui dall'inizio settembre sostanzialmente quando ha iniziato a entrare nel vivo la campagna e quando sembrava che Trump effettivamente iniziasse ad avere un vantaggio abbastanza interessante rispetto a Kamala Harris ai repubblicani l'azione ha cominciato a venire su è cominciata a venire su è cominciata a venire su in modo importante guardate quanto ha spinto stiamo parlando di un movimento che ha toccato sul massimo ora ve lo trovo il massimo eccolo qui eccolo qui ha toccato sul massimo una spinta del 373% e qui arriviamo al punto crociale da qui arriva la mia attenzione inizia esattamente da qui a tal proposito io ho fatto due ho fatto due short su DJT uno qui il 30 ma questo è il 29 se non sbaglio ora lo vediamo comunque ho fatto uno short sulla giornata del top e uno short il giorno dopo ho registrato entrambi gli short ok questa è la cosa interessante li ho registrati entrambi completamente il secondo un video di due ore e mezza circa se ti interessa che io faccia un video di della rubrica The Edge Lab scrivimi subito nei commenti la parola live l-i-v-e live e io ti faccio un video dove ti faccio vedere tutto quello che ho pensato durante quell'operazione come l'ho costruita dove sono entrato come ho eseguito come ho gestito i stop come ho gestito i profit tutto quello che ti serve ti faccio un video proprio dove ti vada dissezionare tutta l'operazione come solito nella rubrica The Lab quindi live nei commenti e te lo te lo butto fuori comunque dopo un movimento del genere del 370% è qui di range di store di dammone di liquidità ne sta entrando ok ma la cosa che mi ha iniziato a interessare in modo particolare all'operazione andiamo in Telegram ti faccio vedere un pochino quando inizio a scrivere così contestualizziamo un attimino lo troviamo insieme vediamo quando inizio scrivo un sacco di roba in sala operativa ragazzi eccolo qui ok guardate io dal 28 28 ottobre ok inizio a interessare perché vedo che l'azione che sta facendo inizia a rilasciare giorno dopo giorno Trump Media annuncia il rilascio di Truth per streaming sul web Trump Media annuncia il rilascio di Truth Plus per streaming su iOS e Apple TV Trump Media annuncia il rilascio di Truth per streaming su Android TV cioè ogni giorno facevano questo lavoro praticamente possiamo chiamare lavoro di pump continuo per cercare di portare l'azione su di tenere l'azione su fare entrare liquidità 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 ok era balzata ai miei occhi questa roba qua è un lavoro continuo un'azione comunque con flottante ampice un'azione che se vale il 300% su è significativo non è un giochino ok non è una small cap che ha un flottante piccolo un market cap piccola una persona un trader può spostarle del 300% ok è completamente diverso tra l'altro vedete qui scrivevo no cioè tra l'altro pump che stava riuscendo alla grande qui eravamo a 46 dollari all'inizio un attimino di questa estensione ok quindi qui iniziavo assolutamente a interessarmi a DJT ok però quando è arrivato poi il primo in realtà il primo short su DJT eccolo qui guardate DJT il 29 ottobre siamo sostanzialmente qua perché arriva perché io vedo questo vedo che il prezzo inizia a rompere dopo questi due giorni di dopo questi due giorni qui di pausa tra virgolette 1 e 2 inizia a rompere con volume che va a crescere ma ancora va in gap il giorno seguente con volume ancora che cresce qui per me inizia la partita si sta e sta espandendo il range stanno entrando volumi importanti 110 milioni come vedi non sono un giochino ok siamo passati da 50 circa a 110 il doppio in un giorno sta succedendo qualcosa devo assolutamente attivarmi e infatti lo scrivevo in trading room questa giornata qui che vedi è questa qui no è quella che ti ho fatto vedere prima dove appunto iniziavo a dire attenzione qua inizia a succedere qualcosa sta succedendo qualcosa quindi inizio assolutamente a a interessarmi dei getti per poi arrivare al giorno dello short che era esattamente il 29 ottobre ok il 29 ottobre che faccio io ti ripeto questa roba qui ce l'ho tutta registrata dal vivo quindi se vi interessa live nei commenti e vi faccio vedere tutta l'operazione registrata ora vi faccio vedere tanto cosa stavo pensando azione legata ingrandiamo un po' azione legata a Trump e conseguentemente alle elezioni americane idealmente con questo gap di oggi questo gap qui sto parlando di questo gap qui ok della 1 2 la terza giornata che ha avuto un gap un volume ancora più importante 170 milioni questo gap qui apre le porte a un potenziale short e qui vado a mettere poi tutta una serie di idee che avevo per lo short che posso raccontarti bene in quel video in verità però tutta questa situazione secondo me si configura come uno scenario sell the news per le elezioni del 5 novembre e questa è la cosa più interessante dove voglio fermarmi un attimo prima di procedere e concludere quel video secondo me tutto quello che succederà porterà ad una situazione di questo tipo dove tutto questo era sostanzialmente il buy dei rumors quindi andare a comprare sull'idea che Trump potrebbe vincere le elezioni e in vantaggio e quant'altro c'è un'azione abbiamo un'azione che si chiama proprio DJ Trump Donald DJT Donald J. Trump ok ma secondo me uno scenario super 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 possibile è che dovunque si trovi il prezzo ora ti farò vedere dove è il prezzo ora ma dovunque si trovi il prezzo questa situazione qui su DJT finirà con un sell the news perché lo scenario è questo buy the rumors prima che si arrivi al momento della news che in questo caso è l'elezione sell the news si va a vendere quel giorno perché dico questo perché pensateci io ho fatto questo ragionamento qua se Trump dovesse vincere le elezioni si andrebbe nel classico scenario sell the news ok quindi classico scenario sell the news Trump vince era quello che il rumors voleva anticipare cioè questo rumor qui che va su è sostanzialmente anticipando una vittoria di Trump altrimenti non avrebbero comprato l'azione di Trump la comprono se pensano che Trump potrà vincere le elezioni nel momento in cui vince poi si va verso lo scenario tipico del sell the news quindi si avrà una giornata di sell the news forte e poi magari una ripartenza dell'azione nel caso in cui Trump dovesse perdere invece dovesse perdere le elezioni questa azione sarebbe praticamente zero non varrebbe nulla ok questa azione è praticamente una speculazione circa il fatto che Trump vincerà le elezioni ok cioè il social media truth che sta dietro questa azione non è profittevole non è non è il motivo dietro una crescita del 300% di DGT la crescita dietro quel motivo dietro questa crescita del 300% di DGT è Donald Trump se Trump dovesse perdere e questo che ce lo dimostra anche questo guardate cosa c'entra questo gap del 50% con tutti i social media niente zero c'entra zero ok però c'è stata perché qui c'è stato l'attentato ok qui c'è stato l'attentato a Trump qua c'è stato l'attentato a Trump ecco la motivazione quindi capite come questa azione non c'entra niente col social media truth ma c'entra tantissimo col Donald Trump quindi sostanzialmente in entrambi i casi l'azione potrebbe venire giù in modo molto importante ok uno perché potrebbe andare verso un sell the news classico dovesse vincere Trump due perché se dovesse perdere Trump effettivamente quest'azione varrebbe niente ok quel giorno che faccio quindi focus DGT inizio a vendere DGT ok continuo a vendere tutti gli eseguiti quindi comincio a vendere su 54,30 54,30 quindi sto vendendo praticamente da qua praticamente ti faccio vedere per darti un po' di contesto mettiamo una linea vedi sto vendendo praticamente da qui venduto qui dai massimi vedi short sell 54,30 e comincio a prendere profitto fino a 50,30 più o meno quindi più o meno sto qui con il primo profit uno degli ultimi profit 50,30 ancora provo a risortare 53,80 continuo a risortare una spinta prendo profitto insomma mi lavoro l'azione tutto il giorno questo è il grafico dell'operazione ripeto io questa operazione qui ce l'ho registrata tutta live quindi se ti interessa commenta però quello che succede qui è una cosa particolare e so anche perché l'ho scoperto dopo mentre operavo ero concentrato comunque io comincio a shortare vedi short prendo profitto prendo profitto short ancora short ancora prendo profitto poi mi chiudo con l'ultima parte a break even qui non sono arrivato assolutamente al profitto che avrei voluto perché qui mi aspettavo una una capitolazione completa dell'azione mi sarei aspettato veramente il prezzo andare rosso qui sotto la chiusura di ieri e venire giù forte non l'ha fatto anzi ricominciare a spingere perché perché a un certo punto ha iniziato a parlare Trump in un comizio e ha iniziato a parlare anche di mercato azionario ha rispinto l'azione sua per me però è stato interessante come cosa cioè non è stata ma vedi che da qui dal minimo ok questa qui è l'apertura ti faccio vedere così almeno facciamo anche un po' di analisi tecniche di base questa è il massimo dell'azione del fatto segnale l'azione quel giorno questo è il minimo questa è l'apertura questa è la chiusura quindi vedi come il prezzo a un certo punto durante la giornata ha recuperato tutto vedi come si è riavvicinata al prezzo di apertura andando quasi a chiudere positivo se vogliamo quindi vedi come non mi ha dato quello che volevo che sarebbe stata una capitolazione potenzialmente anche sui 35 ok ma qui arriviamo al al giorno dopo il giorno dopo quindi qua risultato comunque interessante su djt non è stato male ma assolutamente non è stato quello che mi aspettavo ed anzi ho lasciato anche un bel po' di profitto sul tavolo perché qui quando mi è tornata su mi ha rimangiato un po' di profitto comunque andiamo eccola qui vedete eccola qui l'operazione finale quindi qui riprova viene giù io risciorto risciorto prendo profit prendo profit qui ero con un buon profitto questa qui è proprio l'operazione finale che ti ripeto puoi vedere live se vuoi commentando quando vado a risciortare qui e qui mi aspetto la vera capitolazione il prezzo invece riparte qui è quando ha iniziato a parlare Trump più o meno e il prezzo qui è stato forte e ha cominciato a rispingere e mi ha fatto mangiare una buona 30-40% di profitto ok quello che ho fatto però in realtà è stato il giorno dopo guardate questa roba qui molto interessante e simpatica sempre guardate come Reuters se ne esce con le azioni di Trump media in rialzo verso le elezioni questo è uscito il 29 ottobre alle 17.34 perfetto il 29 ottobre era proprio questo giorno qua il 29 ottobre era praticamente qua dopo tutta la spinta dopo praticamente tutta la spinta del 300% e passa dell'azione esce quest'articolo di Reuters che dice le azioni Trump media e tecnologie sono salite del 13% oltre i massimi dei 5 mesi ok estendendo i forti guadagni recenti perfetto si è svegliata Reuters questa roba qui ora netto di Reuters e quant'altro è interessante perché qui mi diceva l'azione è rimasta assolutamente viva ed è quello che speravo in realtà ok darmi un bello short oggi per poi ripartire darmi una nuova occasione perché perché questa roba qui ha fatto entrare ulteriore dump money è quello che mi serve persone che stanno rincorrendo vedono ok siamo ancora su abbiamo superato i massimi a 5 mesi lo dice anche Reuters bla 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 compriamo compriamo Donald Trump Donald Trump compriamo perché nel momento in cui la festa finirà e loro non saranno pronti a questo e il prezzo comincerà a venire giù in modo importante andranno nel panico alimenteranno le vendite perché saranno i venditori naturali per di più impreparati quindi andranno nel panico e venderanno e alimenteranno la discesa e arriviamo così al giorno dopo con una market cap ai massimi storici di DJT questo l'avevo postato sempre in questo l'avevo postato durante le mie ricerche notturne perché ragazzi i soldi si fanno non ve li regala nessuno i soldi non ve li regala nessuno dovete farvi il mazzo stare in un contesto come questo dove potete studiare confrontarvi con trader professionisti seri ma i soldi non ve li regala nessuno ok era mezzanotte e mezza del 30 ottobre mezzanotte scusate mezzanotte e 7 minuti del 30 ottobre e io stavo davanti ai grafici a studiare a cercare di rifinire rifinire la mia il mio vantaggio la mia operazione poi mi direte se ne è balsa la pena comunque vedevo che era proprio eramo in hype totale guarda come il la market cap di DJT era praticamente ai massimi storici ok nonostante una giornata debole comunque recuperata ma eramo comunque ai massimi storici assolutamente assolutamente qui c'era un'occasione il giorno dopo l'occasione vera potenzialmente sarebbe stata il giorno dopo quindi bla 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 tutti i piani che avevo fatto su anche altre operazioni e quant'altro e arriviamo al DJT ok anche DJT oggi sarà nel mio mirino qui erano il 30 ottobre ci potrebbero essere due scenari oggi ma lasciamo stare i due scenari che poi ripeto se volete vi spiego nel dettaglio vi faccio vedere nel dettaglio perché ho fatto quello che ho fatto su DJT il 30 ottobre la cosa importante era una sola oggi il 30 ottobre è la prima volta che DJT aprirà in gap down quindi con un gap a ribasso significa che è cambiato qualcosa proprio nel nel comportamento nel nel carattere dell'azione di chi sta spingendo quest'azione in modo importante continuativamente è cambiato qualcosa è la prima volta che DJT mi va ad aprire in gap a ribasso e lo fa del un gap del 7.8% circa a ribasso tanta roba tanta roba per un'azione comunque con 10 miliardi di capitalizzazione di mercato è tanta roba questo qui questo segnale qui mi andava a delineare una roba qui sta cambiando qualcosa sta cambiando un po' scenario in senso inizia a diventare debole è il primo è letteralmente da tutto quanto è passato qui da il 24 settembre al oltre un mese quindi possiamo dire è la prima volta che DJT apre con un gap down soprattutto significativo perché anche anche qui c'è un piccolo gap down ma è insignificante io parlo un gap down significativo e lo fa dopo una due tre giornate di espansione del range tre giornate di espansione del volume è significativo qualcuno ha mollato ha gettato la spugna ok o sta facendo cassa devo esserci anch'io faccio due piani ovviamente dettagliati in in trading room nel dettaglio e poi inizio a colpire non è stata non è stata facile perché come vedi io ho commesso anche un piccolo errore ripeto te lo spiego nel nel video se vuoi che lo faccia dal vivo il scrivendo live nei commenti però vedi come ho dovuto gestirla perché ho fatto un piccolo errore di size era un'operazione che avrei dovuto scalare proprio perché l'avevo pianificata così ho fatto un piccolo errore di size ho dovuto gestire un po' una perdita ovviamente quando vuoi fare un grosso profitto perché c'è un'occasione grossa come questa devi sopportare di fare una perdita un po' più grande però ho dovuto semplicemente gestire la size ma senza far questo non puoi arrivare a avere risultati di questo tipo ok io non ho fatto altro che attivare il primo scenario e seguire quello cioè il primo scenario che avevo scritto qui è stato quello che si è attivato io l'ho seguito questo è quello che ne è venuto ti faccio vedere poi l'operazione finale no questa è tar ti faccio vedere poi l'operazione finale tutta chiusa eccola qua ok questa qui è l'operazione finale su djt come vedi sono andato abbastanza aggressivo ho spinto ho fatto un piccolo errore qui l'ho fatto nello specifico qua ma è stato proprio un errore di click in realtà cioè ho proprio sbagliato la size ho messo troppa size e quindi essendo un'operazione che dovevo scalare costruendola non potevo sbagliare size perché nel momento in cui avesse spinto magari con uno strappo mi sarei trovato fuori rischio ok lo dovevo tagliare e ricostruire un po' in realtà mi ha dato ottimo mi ha dato la possibilità di farlo perché ho migliorato anche il prezzo medio di carico in questo caso e poi capitolazione quello che mi aspettavo il giorno prima capitolazione totale quello che ti ho fatto vedere il giorno prima che invece hai visto come il prezzo ha recuperato andando a chiudere praticamente vicino al vicino all'open il giorno dopo non c'è stato vedi che il prezzo chiude debole ok abbiamo massimo minimo open close il prezzo chiude debole con tra l'altro una performance in giornata del meno 16% quindi tanta roba ok tanta roba quindi questa è stata poi l'occasione che ho sfruttato per andare appunto a short su djt risultato ovviamente ottimo 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 guarda come per esempio Luigi qua dice la cosa più bella è che il piano su djt era chiaro come il sole questa è la cosa più importante cioè il piano che avevo scritto a loro che poi ho messo in campo con questo short io l'avevo scritto chiaro preciso l'unica cosa per andare a sfruttarlo come me è la confidenza che tu hai ovviamente perché l'hai fatto tante tante volte ok però questa operazione qui aveva tutti i parametri c'era tantissima liquidità te lo faccio vedere ah vediamo vediamo il vwap più o meno era 44 dollari vediamo quanti milioni sono entrati qua dentro facciamo insieme 44 dollari eh no scusami 44 dollari per quanti milioni sono scambiati 120 milioni più o meno qua dentro sono entrati 5 miliardi è abbastanza liquida come operazione direi di sì direi proprio di sì range vediamo se c'è range anche semplicemente da questo breakout qui al massimo abbiamo un range del 50% che potenzialmente è quello che vogliamo andare a ricoprire no? con uno short direi che c'è range direi proprio di sì c'è Dan Money qua dentro? beh penso proprio di sì no? chissà chi ha comprato qui guardate perché dico c'è Dan Money? guardate la giornata con il volume più alto negli ultimi mesi e mesi e mesi e mesi guardate ok? se non sempre praticamente è stata questa qua la giornata di top del giorno precedente e potenzialmente sapete dov'è tutto il Dan Money? tutti quelli che hanno comprato qua e che il giorno dopo bam sono stati intrappolati subito e quindi devono vendere veloce perché devono chiudere l'operazione venditori naturali ok? c'è una storia assolutamente sì assolutamente sì e arriviamo alla conclusione la storia è assolutamente viva perché guarda dopo l'headline di Reuters di Wack DJT vabbè io mi ricordo di Wack perché ho bei ricordi su di Wack ci sono anche dei video nel canale un'operazione un'operazione movimento pazzesco di di Wack vabbè però a parte quello il guarda perché questa azione si chiamava di Wack l'ho detto prima ora ha cambiato nome si chiama DJT dopo la SPAC però guardate dopo l'headline di Reuters DJT sta spingendo su nuovi massimi e quant'altro praticamente è stato il top proprio il top del top ha sancito proprio il top totale ora stiamo venendo giù ma non è finita perché le elezioni saranno il 5 quindi qui a mio avviso ci sarà un'altra occasione questo qui era un antipasto di quelli belli gustosi io dicevo sempre un antipasto in realtà dopo questo mio short qui dopo questo mio short qui dov'è? dopo questo mio short qui il 30 ok? mi sarei aspettato sinceramente di vedere una nuova spinta ok? mi sarei aspettato di vedere una nuova spinta quindi qui magari una spinta tornare sui 48 aspettando il 5 per poi fare un altro bel sell the news di quelli pesanti e fare magari anche 4-5 volte quello che hai visto prima però però quello che abbiamo ora è un'azione che sta spingendo è venuta giù fino ai 30 dollari ora abbiamo poco tempo perché il 5 è sostanzialmente martedì le lezioni saranno praticamente di notte sarà da guardare tutta la giornata compreso l'after hour secondo me e svegliarsi presto in pre-market mercoledì perché tra il 5 e il 6 secondo me DJT darà un'altra grossa occasione perché ha tutte le caratteristiche per farlo tutti i 4 pilassi che ti ho detto di un'operazione con un grosso vantaggio e che può dare un grosso risultato quindi bisogna stare pronti pronti a capitalizzarlo perché questo è il nostro lavoro ok detto questo direi che ci siamo come sempre link in descrizione iscriviti alla newsletter The Edge perché io di questa roba ne ho parlato in anticipo da due settimane che sto parlando di DJT e ho condiviso con loro con chi è nella mia newsletter tutte queste informazioni per poterle se volevano anche andare a sfruttare mi raccomando poi iscriviti lascia commento soprattutto su nei commenti scrivendo live se vuoi vedere le due operazioni una e due quindi sono oltre 30.000 dollari di valori di operazioni da guardare e fammelo sapere nei commenti perché ti faccio un video di The Edge Lab dove ti vado a sviscerare a sezionare tutta l'operazione esecuzione per esecuzione e ti faccio comprendere perché ho fatto quello che ho fatto e perché ho portato a casa questo approfitto se vuoi guardare inoltre un altro video dove ti spiego quali sono i principali indicatori sono pochi semplici che funzionano però per darti un reale vantaggio e indicarti delle situazioni con un vantaggio importante guarda questo video qua grazie a tutti